Quindi ragazzi direi che per questo video ci possiamo salutare qui, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, condividete il video con i vostri amici, da Paperinicca08 e Gabriele03f è tutto, ciao ciao e linea allo studio! Ah ok, e anche questo video è finito, Gabriele ci sei? Pietro, si ci sono, stavo spengendo il computer Sì ok, e bene, adesso lo carico dopo va bene, visto che adesso è giorno dobbiamo pure andare a fare, piove guarda, dobbiamo andare a fare il nostro lavoro Sì è venuto bene, perché poi era il primo episodio di, era il primo episodio di questo nuovo gioco, questa nuova mappa che hanno messo sul Roblox, quindi poteva essere bellino dai, cioè secondo me è molto bello Vabbè comunque, andiamo al lavoro, vieni, prendiamo la mia macchina Sì sì, andai andare al lavoro, vai Vai che, visto che, per guadagnare un po' di soldi, perché non è che con Youtube guadagniamo proprio tantissimo, eh, vieni, sali Eh lo so, ma perché siamo inizio, poi magari, prossimamente guadagneremo di più, forse vai, salgo, ti aspetta Aspetta, apro il garage Facciamo il garage Eh, aspetta, ok, eccoci Allora, quindi Devo dire una piccola stradina qua Sì, lo so Eh, ma Quella macchina, perché sennò va sull'erba e si rompe Eh, infatti, bravo Comunque, c'è, eh, idee per una nuova serie? Ce n'hai? No Eh? No, ti ho chiesto se avevi idee per una nuova serie, vabbè, comunque Parcheggiamo, no Dove, mh Ok, qui Al, al supermercato, no Dov'è il supermercato? Me lo sono scordato No, no, il supermercato è di là Eh, stai nuovo, ovviamente Eh, sì Il supermercato è di là Aspetta, eh Ora vai qua Poi gira a destra Adesso Eh, scusi O per fortuna ne avete attento a guidare Sono molto bravo a guidare Qua c'è il parrucchiere, il supermercato No, no, no No, qua c'è È vero te, se no Comunque qua c'è lo spazzino Devi andare indietro Eh, io ancora Ecco, gira qua, no Qua In questa strada dove stanno Ecco, bravo, qui, bravo Io mi sono trasferito da poco qua Quindi, infatti, non ho ancora preso Eh, lo sono Ti ti ho dato poi la patente Eh, paperino Vabbè, andiamo Ehm Beh Che facciamo il lavoro Guarda, ci sono già i clienti Dobbiamo lavorare solo noi, eh Praticamente Ok Bene Eh, lo so Vabbè, mettiamoci qua a lavorare un po' E vi metto qua Sì, sì Buongiorno, signore Buongiorno Sì, sì Ok, lo metto nel pacco Aspetta Prendo il pacco Ok Eh, ma Non so fare il mio lavoro Che brutto Ah, ok Dovevo mettere la busta, eh Non so Sono nuovo Devi prendere i pacchi e metterci le cose Eh, sono Sono nuovo Devi premere Su computerino Che hai fatto Sono nuovo, eh Quindi Ok Ecco lei No, ma come No, ma come? Era per dirci Era per dirci Ma perché ho sbagliato? No Vabbè, io non so lavorare, Gabri Mi ero dimenticato un ingrediente Vabbè Cioè, non un ingrediente Un Una busta Ok Buongiorno, signore Ok Le prendo un'altra busta Vabbè, devi stare molto attento In questo lavoro Ok E quanti pacchi sto prendendo io? Mi sto spiegando un sacco Ok, arrivederci Ah, forse ho capito, eh, Gabri Ho capito come si fa questo lavoro Eh, buongiorno Intanto metto tutti i pacchi Siamo tutti Vabbè, ma dobbiamo guadagnare Se no poi non riusciremo A comprarci computer di marca migliore Ecco lei E poi ci faremo anche la stradina Sì, che poi Che poi io mi devo Io mi devo Ancora devo pagare il trasloco Per Per il mio computer Perché ancora quello non l'ho preso Dalla vecchia casa Eh, giusto Tutti, tutti, tutti Ecco lei, signore Bene, oma Cioè Ecco, buongiorno Bene Bene il pacco Mi sembrava un po' più Di più difficile Dall'ultima volta Che sono venuto qua A lavorare Però In realtà No, dai, è abbastanza semplice Solo che ancora non avevo capito Quindi Mi hanno promosso, Gabri Mi è arrivato un messaggio sul telefono E mi hanno promosso Ah, bravo, bravo Bene Vabbè E' già tutto lavoro Come fattorino della pizza Quindi non sono risolvato molto A lavorare Ah, te fai il fattorino Non lo sapevo Lo sai che facevi il fattorino della pizza Vabbè Sì, però io cambio il lavoro ogni giorno qui Eh, in questa città Si può fare tutti i lavori E si vuole Guarda quanta gente sta arrivando Sono proprio soddisfatto Stiamo guadagnando Stiamo guadagnando un sacco di soldi Eh, tanto Perché poi Con questa storia del coronavirus Tutti adesso vengano Alla finale Tutti i cibi possibili Infatti Vabbè Ehm Sì, buongiorno signore E con lei tutto Ok Buongiorno Arrivederci Ok Ho finito Ho finito Le buste Ho finito le buste Gabri Dove le vado a prendere? Qua negli scaffali? Hai chiesto i pacchi? Sì, li ho finiti Vabbè Ce li ho qua Ce li ho qua No, perché li devono portare altre persone Mi sa Oppure le hai presite Le hai presite Io ho preso Io l'ho preso Più in dipendenza Sì Io sapevo che li portavano invece Alcune persone Vabbè Forse non c'erano Là ci sono anche altre case Sì, infatti stiamo lavorando soltanto noi a queste case Cioè non c'è nessun altro Buongiorno Allora Vabbè Comunque Comunque C'è La maggior parte di quelli che lavoravano qua Erano delle persone anziane Quindi non Ci sono diffugiati in casa Gabri Abbiamo lavorato anche abbastanza Secondo me Cioè Andiamo un po' a fare una pausa adesso Sì, anche se non me Io vediamo 4 guadagnati per ora C'è l'app sullo smartphone No Quanto? Tre stentini Guarda che faccio l'ultimo cliente Anch'io Anch'io faccio l'ultimo Questa è la cassa numero prima La prima cassa Ok, sì La cassa numero 1 sta per chiudere Anche la cassa numero 2 sta per chiudere Quindi andate nelle altre casse Che non c'è nessuno Quindi La cassa numero 2 ha chiuso Ok, cassa numero 2 è chiusa signora Cassa numero 2 è chiusa Bene, andiamo Non lavoro più Andiamo Ok Mi hanno dato Beh, un bel po' di soldi Sì, sì, sì Eccola qua Bene Mi hanno dato Perché ha messi 199 euro Perché qua ogni volta c'è una persona a cui devi pagare Vabbè, comunque andiamo un po' in palestra, Gabri A mantenerci allenati Sì, ma così ci sersitiamo un pochino Andiamo Dai, ok Andiamo Sì, sì, vai Andiamo Andiamo Te, te Io uso il tapirulane Eh Visto che Anch'io perché mi devo allenare con la colta Dai Sono così lento Ma io colpo Oh No, dai Io cambiamo di idea Io mi alleno un po' qua Poi stancante Ok Sono stanchissimo Vabbè Adesso tiro un po' di pugni Oh 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 Ok Io mi sono già allenato abbastanza Sono già stanco Vado Vado a casa io No, no, no Basta il tapirulane Ho fatto troppo Ho fatto troppo Bene Adesso Sì Vieni, sali Allora Dovremmo anche Guider per bene magari però Sì, sì, sì Guiderò per bene Fidati Dobbiamo anche andare Prendiamoci un hamburger Che dici? Eh Mi sembra una buona idea Prendiamo il parcheggio Al doppio burger Vai Prendiamoci un hamburger Così Buongiorno Buongiorno La fila È vero La fila Qua c'è la fila Ma Qua c'è un'altra casa Quindi buongiorno Buongiorno Allora Vorrei Un hamburger Ma qua c'è sempre la fila Io mi prendo un hamburger Sì Me lo sono preso Purino Ok Vai Sediamoci a un tavolo Io l'ho già mangiato in piedi Era troppo buono Io non lo so Era troppo buono Vabbè Adesso Scusi Vorrei pure La bloxy cola Grazie Ah Che buona Non l'avevo vista C'era la penna anch'io Vai Tanto ho fatto due soldini Quindi due euro Bene Adesso Andiamo 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 a casa un po' Magari a fare altri video Non lo so A parte sta piovendo da tutto il giorno Dobbiamo fare Perché se no se ne facciamo pochi Poi ci disiscrivete Infatti abbiamo anche raggiunto I 120 iscritti Lo sai Eh Sono un bel po' Infatti Eh bene Effetti Andiamo Dov'era casa Non me lo ricordo più No è dall'altra parte Devo messare un po' Queste strade Eh lo so Sono nuovo Di qua c'è tipo La gelateria Ok di qua No vero Di qua c'è il pizza planet Che è un posto dove si mangia la pizza Sì 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 Lo so E qua c'è il quartiere Con tutte le Le case Ma te ce l'hai un'altra casa No a parte Vabbè a parte che stai Ad abitare No Attento Non fare così però Sì eh lo so E dobbiamo fare la stradina ancora Domani ti insegno come Guidare per bene magari Sì ok Qui c'è anche la bici Vabbè comunque Chiudi il garage Vorrei vedere come è Casa tua Si può vedere come è casa tua Sì sì bene Eh Sì sì possiamo andare Però abbiamo appena fatto il piatto Sì lo so Prendo la bici Puoi mandare di nuovo Prendo la bici Prendo la bici Non preoccuparti Ah sta piovendo No è diventato giorno Cioè è diventato sereno adesso Ma perché non vieni in macchina con me Oggi è l'idea un po' schiare mi sa No volevo andare a fare un giro in bici Ho cambiato idea Non voglio più vedere la casa Ciao Eh vabbè allora però ti seguo in macchina Perché io ho piedi proprio Ok Ah che bello Sono qua nella pratteria Certo abbiamo scelto proprio un buon posto dove abitare eh Ah Eh lo so Bello adesso Ti porta a casa mia Io posso non andare solo sulla strada Quindi puoi venire sul marciapiede Sì Arrivo tra la natura Che bello Vabbè sto tornando eh Però Cioè Dal volantino della casa era più brutta la casa Era più brutto anche il luogo della casa Invece è abbastanza Ma io in realtà non mi sembra bello Comunque si sta per fare notte Gabri Eh Allora se ti porto a far veloce male male Sennò torniamo a casa mia Sì Perché te dovresti avere pure Perché te dovresti avere pure un secondo letto No? Teoricamente Guarda questa c'è una villa Eh attento magari se Bella Questa è una villa ma è bellissima Bella questa villa Vabbè andiamo Ma gigante poi Aspetta signorina Ti tolga per favore Grazie ok Ma se No sei più pollo Guarda nemmeno io mi so diventare bene Ok non è da questa parte Mi sa che dall'altra Hai sbagliato strada Eh bravo Attento Ma te Non sai nemmeno guidare una bicicletta Eh sì lo so Non so guidare Te l'ho detto paperino ma dato la paziente Quindi non so Tento motorino in vista Tento motorino in vista Sì sì tanto io vado sul marciapiede Ma io stai sul marciapiede che è meglio Sono più sicuro sul marciapiede Ti aspetto eh Che anche nell'altro quartiere è la mia casa Hanno tutti delle case Ma come mi sa Cioè non sai neanche dove è casa tua Vabbè hanno tutti delle case enormi E ci avevamo una casetta Sono nuovo te l'ho detto Ci sono due quartieri È vero È vero ci sono due quartieri Comunque Beh caso però io volevo stare con la casa vicina a te È notte Eh vabbè dormi una casa mia Tanto io ho anche un sacco a pelo quindi Va bene va bene Io dormirò nel sacco a pelo Guarda come sono atletico Mamma mia Aspetta Sono andato sul cerchio Ho capito ma se ti fai male Guarda in questa città non c'è un ospedale No non è successo niente Sono andato sul cerchio del pizza planet È bellissimo Sono contentissimo Non l'avevo mai fatto L'ho sempre voluto fare Quando lo vedevo in pubblicità Però non l'ho mai fatto Ok Lo so bello È un po' finto quello Cioè te sto quasi a farlo Però vabbè vieni Sì lo so Da quel tuo quartiere La casa Ma è grande questo posto Cioè dove abitavamo prima in confronto era piccolissimo Ora è molto più grande Cioè dove abitiamo noi è molto più grande Vabbè Ok la mia casa è qui È quella qua Ok va bene Però vai piano Perché sono indietro E infatti Vedo Ti sei fatto pure Ti sei fatto pure la stradina Per arrivare con la macchina Figo Va bene E poi fa la sconciata Come vedi Io ho fatto la mia stradina Per la macchina Vedi Sì l'avevo già vista da fuori Aspetta adesso che Aspetta che sto pure a parcheggio Io parcheggio qua eh Vedi almeno io sono un pochino più civile Aiuto Aiuto Attento che c'è la macchina Scusa io parcheggio qua Io parcheggio qua Aiuto Eh vabbè parcheggio qui dentro Dentro la macchina Vabbè comunque Apriamo La porta Questa è la tua macchina E qua c'è la mia macchina Quindi però È super buio Va bene È super buio È super buio Comunque Che cosa è successo A casa tua Non ho pagato Non ho pagato Il mio amico Che mi pendeva le luci Non manco le costo accendere Le luci adesso Cavolo È builissimo Ok Ma si sono riaccese le luci Ok Sì sì Le ho pagato Sono andata a pagarlo Ah ok No no Ok Va bene Allora Buonanotte Io dormo Come nel sacco appena Ok Vai Se sta il comodo Puoi dormire Buonanotte 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 Aspetta Spendiamo la luce Non ci arrivo Aspetta Buonanotte Notte Notte Notte